Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del Tg6 che noi apriamo con la visita all'Aquila del presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, che è arrivato proprio nella nostra regione per visitare il capoluogo. Ha detto Squitieri che non c'è rischio, default per il paese e la regione Abruzzo non rischia il commissariamento. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. I conti del paese sono in regola e la materia prima che manca, cioè le risorse. A dirlo è stato questa mattina all'Aquila il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, a margine di un incontro che si è svolto con il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il paese, ha osservato Squitieri, è in difficoltà ma non c'è alcun pericolo di default. La crisi è generale. Più di dieci anni dalla riforma del titolo quinto della Costituzione. È una riforma che è stata fatta nell'ottica di esaltare l'autonomia regionale e comunale. Questo decentramento è servito al sistema paese oppure no? È sia attuato così come si voleva attuare oppure no? Sono interrogativi di difficile risposta. La risposta forse è nì, nel senso che forse qualche ulteriore aggiustamento andrebbe fatto. Con la riforma del titolo quinto si è passato in uno Stato con molti centri di spesa autonomi e che ha creato problemi di possibili disomogeneità nella gestione. Sulla richiesta di scioglimento del Consiglio regionale avanzato dalla delegazione Abruzzo della Corte dei Conti riguardo presunti inadempimenti contabili della regione relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, il presidente Raffaele Squitieri ha detto Non ho mai sentito parlare del rischio di scioglimento e lo sento per la prima volta qui. L'attuale governo regionale risponde di responsabilità che attengono alla propria gestione. Per quanto riguarda la responsabilità di gestioni passate, se è vero che questa c'è stata, è giusto che ne rispondano i vecchi responsabili. In particolare con la regione Abruzzo la sinergia assoluta. Noi diamo la mano, siamo disponibili anche a darle contributo professionale per tutte le tematiche relative alla ricostruzione. So che adesso recentissimamente è stata prevista una funzione nuova della Corte dei Conti, cioè quella del controllo dei mandati di spesa delle spese relative alla ricostruzione. È un lavoro pesante che noi avremo difficoltà a fare per motivi di carenza di organico, che però faremo. Prima udienza oggi in corte d'appello, sempre all'Aquila, del processo in relazione al presunto giro d'affari e mazzette legato alla sanità abruzzese che provocò l'arresto del presidente della regione Abruzzo, Ottaviano del Turco, e parte della sua giunta, Daniela Braccani. È stata rinviata al 30 settembre l'udienza del processo sulla Sanitopoli, che nel 2008 fece cadere la loro giunta regionale d'Abruzzo di centro-sinistra, guidata da Ottaviano del Turco. Prima udienza oggi presso la Corte d'Appello dell'Aquila del processo d'appello sul presunto giro di affari e mazzette legato alla sanità abruzzese, pubblica e privata, che portò all'arresto e successivamente alla condanna, tra gli altri, dell'ex presidente della regione Ottaviano del Turco, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Insieme al governatore d'Abruzzo vennero arrestati anche diversi ex consiglieri, assessori regionali e l'ex proprietario della clinica privata Villa Pini di Chieti, Vincenzo Mariangelini, l'imprenditore della sanità privata, detto il grande accusatore, proprio perché, con le sue dichiarazioni, diede avvio alla max inchiesta della procura pescarese, allora guidata dal procuratore, oggi in pensione, Nicola Trifuoggi, attualmente vice sindaco dell'Aggiunta Comunale dell'Aquila. Fuori l'aula della Corte d'Appello dell'Aquila, il figlio di Ottaviano del Turco, giornalista di Mediaset e l'ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca, assente invece dalla prima udienza il grande accusatore Vincenzo Mariangelini. Il processo di primo grado al Tribunale di Pescara si era concluso il 22 luglio del 2013, 5 anni dopo gli arresti che decapitarono l'Aggiunta del Turco il 14 luglio del 2008, con 9 condanne, 12 assoluzioni e 3 casi di intervenuta prescrizione. Alla base delle condanne un giro di affari di oltre 5 milioni di euro, presunte tangenti versate per sua ammissione da Angelini in misura diversa agli imputati, il tutto in un contesto di forte conflittualità tra regione e sanità privata, innescata dai tagli ai budget delle cliniche. Tra le condanne, quella del Turco, all'epoca in forza del Partito Democratico, 9 anni e 6 mesi di reclusione, 3 anni e mezzo invece all'accusatore Angelini, a Nagiarra dell'Asla di Chieti, Luigi Conga, 9 anni, all'ex parlamentare del PDL, Sabatino Raku, 4 anni, l'ex segretario dell'ufficio di presidenza della regione, Lamberto Quarta, 6 anni e 6 mesi, all'epoca il braccio destro di Del Turco e poi l'ex assessore alla sanità, Bernardo Mazzocca, 2 anni, l'ex assessore alle attività produttive, Antonio Boschetti, 4 anni e l'ex capogruppo regionale del Partito Democratico, Camillo Cesarone, 9 anni. Le altre odienze si terranno mercoledì 30 settembre, il 9 e il 10 ottobre e successivamente il venerdì e il sabato di ogni settimana. La sentenza è prevista per fine anno. Siamo alla pagina della cronaca, Pescara, un 47enne di Roma ed un 16enne di origine romena in manette per una tentata rapina all'ufficio postale di Via Nazionale Adriatica Nord e per tre rapine commesse ai danni di giovani coetanei. Un provvedimento di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per la durata di 12 mesi e di sequestro preventivo per un importo pari a 6.900 euro emessi dal GIP del capoluogo Come avete potuto vedere c'è stato un errore nella messa in onda del servizio, servizio relativo alla conferenza stampa dei carabinieri questa mattina a Pescara per illustrare questa doppia operazione con i due arresti. Vediamo. Questa mattina sono state date esecuzioni a due diverse attività di indagine. Una ha riguardato una tentata rapina all'ufficio postale consumata tentata ad agosto e in questo caso abbiamo avuto, per ricostruire tutta la vicenda, abbiamo avuto anche la fortuna di trovare una telecamera che ci ha aiutato e ha ripreso un attimo uno dei rapinatori. Oltre a questo poi c'è stata tutta un'attività di ricerca che ci ha permesso di individuare due mezzi utilizzati dalla rapina e di sentire una serie di soggetti che ci hanno fornito ognuno un piccolo tassello per individuare il rapinatore. Una volta ricostruita, anche grazie all'ausilio tecnico di consulenti per migliorare le immagini, abbiamo ricercato nel sottobosco dei rapinatori di Pescara e dell'Interland e alla fine è uscita la figura dei Micconi. La seconda attività invece è stata condotta dai carabinieri della stazione di Pescara a Scalo ed anche in questo caso è un'attività che ha riguardato rapine commesse da parte di minori. Questa volta il protagonista è un sedicenne di origine romena che da gennaio a marzo ha messo a ferro e fuoco la riviera consumando rapine ai danni di coetanei. Siamo alla pagina politica. A Chieti 27 milioni di disavanzo, il passivo venuto fuori dal riaccertamento straordinario dei residui del Comune di Chieti. In più i revisori dei conti hanno negato il parere positivo scrivendo Entrate sovrastimate. Il sindaco questa mattina ha risposto ai rilievi mossi dei revisori dicendo che questi non hanno tenuto conto delle somme accantonate nel bilancio 3 milioni e 600 mila euro per coprire eventuali perdite. Alfredo Primante. Caso bilancio a Chieti dopo la bocciatura dei revisori dei conti sul previsionale 2015 che hanno parlato di entrate sovrastimate negando il via libera torna a parlare il sindaco Umberto Di Primio che carte alla mano spiega l'origine del disavanzo milionario, ben 27 milioni di euro. La cifra da capogiro nasce dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi cioè di tutti quei crediti e debiti che il comune ha portato in bilancio per anni. Una sorta di operazione pulizia che ha fatto emergere il buco che dovrà essere ripianato in 30 anni. Dunque per il 2015 il comune dovrà sborsare poco meno di un milione di euro. È un'operazione appunto di natura straordinaria, unica ma è anche forse un'opportunità per tutti gli enti locali in quanto in tutta Italia i vari comuni hanno potuto ripulire i loro bilanci da dei residui che probabilmente non avrebbero trovato nel futuro adeguata soddisfazione. Sarà comunque un bilancio lacrime sangue quello 2015. Non ci saranno aumenti di tariffe per coprire i debiti ma solo per pagare i servizi ha assicurato il sindaco che ha voluto rimarcare come negli anni sul bilancio del comune siano pesati 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio e 15 milioni totali di mancati trasferimenti dal governo centrale oltre alla sanguinosa vicenda dell'evasione tributaria che nel capologo teatino tocca il 37% e oltre l'80% per le entrate extra, ad esempio concessioni edilizie e multe. Adesso dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo puntare a recuperare la troppa eccessiva evasione e delusione che esiste dei tributi e delle entrate extra tributarie nel nostro comune. Dobbiamo puntare a riallineare i costi di alcuni servizi che oggi vengono erogati dal comune ad un prezzo che è inferiore a quello che il comune sostiene per acquistare quei servizi. Mi riferisco ad esempio all'acqua. L'acqua a Chieti viene bollettata, cioè viene richiesta in termini di pagamento ai cittadini ad un costo inferiore rispetto a quello che il comune sostiene per acquistare l'acqua da mandare nelle case. Ma anche il servizio mensa, io sfido chiunque a trovare in Italia una città capoluogo dove il servizio mensa costi nella fascia più alta meno di 3 euro a bambino. Queste sono le cose che dobbiamo cambiare, queste sono le cose che siamo costretti a cambiare. E noi torniamo all'Aquila. I precari del comune hanno deciso infatti di sospendere l'occupazione della sede di Palazzo di Città in seguito al parere positivo espresso dal Ministero per il rinnovro dei loro contratti da risolvere però ancora alcuni problemi tecnici. È terminata l'occupazione della sede comunale dei precari in seguito alla buona notizia arrivata dal Ministero. La proroga dei contratti può essere fatta. È arrivata nel primo pomeriggio di ieri la risposta positiva della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro in seguito all'interpello formulato dall'amministrazione comunale e dall'Anci. Hanno gioito subito i precari in presidio quando hanno appreso la notizia nella stanza del sindaco Massimo Cialente che avevano occupato in forma di protesta il giorno precedente dopo tre giorni di sit-in ai quattro cantoni. Una gioia che non hanno potuto condividere con il primo cittadino che non si è materializzato fra i lavoratori. Secondo la sindacalista della CGL Rita Innocenzi e i lavoratori il parere è chiarissimo e inequivocabile. Non capisco per quale ragione il sindaco Cialente non sia venuto qui a gioire con noi, ha detto. In tarda serata i lavoratori hanno deciso di smantellare il presidio. Secondo quanto si è appreso lo stesso sindaco e l'assessore Betty Leone nel pomeriggio hanno avuto una riunione con la dirigente al personale Ilda Coluzzi, l'unica che può materialmente dare attuazione avendone l'esclusiva competenza alle proroghe dei 60 contratti. Avrebbe deciso di prendere del tempo per riflettere sul da farsi. Accanto ai lavoratori sono stati per tutto il tempo anche i consiglieri comunali di opposizione Guido Liris ed Emanuele Imprudente. All'assenza del sindaco ha fatto da contraltare la presenza della senatrice Stefania Pezzopane che ha avuto fra i lavoratori il suo momento di gloria. In realtà il parere ha confermato quanto sostenuto dalla stessa fin dal primo momento dell'avvertenza. E noi torniamo per un attimo alla cronaca con una notizia giunta da poco in redazione perché ad un anno dall'omicidio di Renato Bellisari, il pensionato di 77 anni che la notte tra il 25 ed il 26 settembre del 2014 fu trovato con il cranio fracassato nella sua casa di Intermesoli in provincia di Teramo, l'omicida non ha ancora un nome. Nei giorni scorsi infatti il GIP del Tribunale di Teramo su richiesta del PM titolare del fascicolo d'inchiesta, il sostituto Andrea De Feis ha archiviato infatti la posizione dell'unico indagato iscritto per omicidio a dicembre dello scorso anno. Si tratta di un conoscente di Bellisari del quale all'epoca non fu resa nota l'identità e sul quale non sarebbero emerse prove di un coinvolgimento nell'omicidio dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati. I carabinieri del reparto operativo di Teramo effettuarono accertamenti e approfondimenti che non avrebbero fatto emergere alcuna prova a carico dell'uomo Bellisari che era tornato nel suo paese dopo una vita passata in Canada secondo quando fu stabilito dall'autopsia fu ucciso da sette colpi sferrati con violenza con un corpo contundente. E lasciamo la cronaca, torniamo a parlare di politica. La Regione Abruzzo ha infatti approvato la legge sulla banca della terra. La legge è stata presentata dal consigliere 5 Stelle Pietro Smargiassi ed è destinata ai giovani che vogliono investire nell'agricoltura. La prima opportunità per noi è disegnare una pagina importante all'interno di questa regione. Abbiamo depositato qualche mese fa questo progetto di legge. Ieri si è concluso l'iter legislativo della nostra proposta. La banca della terra è uno strumento vivo, un'opportunità e una possibilità per i giovani ma anche per chi già oggi fa impresa di ampliare le proprie possibilità di fare impresa e di fare azienda. Entrare nel mondo del lavoro all'interno di un settore da sempre chiuso in un meccanismo padre-figlio. Da oggi è possibile accedere a questi terreni di proprietà pubblica, terreni abbandonati che sono spesso soggetti al dissesto idrogeologico o agli incendi boschivi. Quindi accedere a questi terreni significa portare in vita quei terreni e dare la possibilità a tanti di accedere al mondo del lavoro e quindi avere un'opportunità di lavoro all'interno di questa regione. Ricordiamo che è la prima legge del Movimento 5 Stelle a passare ed è la prima legge che parla di posti di lavoro. Di questo siamo fieri e contenti. Si chiama Moranabio, il progetto dedicato alle pinete abruzzesi presentato all'Aquila obiettivo di radare le pinete che si trovano in condizioni negative e favorire così la crescita di latifoglie autoctone. In Abruzzo buona parte degli oltre 20.000 ettari dei rimboschimenti a pinete avviati anche 100 anni fa mostrano un precario stato di equilibrio fisico e biologico con il rischio di incendi e diffusione di parassiti. L'obiettivo del progetto Moranabio del Consorzio Energia e il Territorio è proprio quello di diredare queste pinete favorendo la crescita di latifoglie autoctone e di rendere sostenibile l'intervento vendendo il legname come cippato buono per alimentare gli impianti a biomasse. Noi vogliamo sostituirci alla natura da questo punto di vista ma guidare un processo naturale quindi nessun disboscamento, nessun trauma ma un passaggio graduale che ci vorranno 20-30 anni non è una cosa immediata in cui passeremo da questi popolamenti di conifere ai popolamenti di latifoglie autoctone. Per quanto riguarda i costi questo è un argomento molto complesso perché noi abbiamo fatto una sperimentazione su piccola scala i risultati quali sono? Che indubbiamente il costo è insostenibile da un punto di vista economico è sostenibile da un punto di vista ecologico ma non da un punto di vista economico questo dovrà essere verificato su vasta scala a livello di bacino. Il convegno all'Aquila ha inteso fare il punto dopo il primo intervento sperimentale al passo delle capanelle nel parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga finanziato dalla regione Abruzzo con 200.000 euro sono state rimosse 200 tonnellate di una pineta artificiale vecchia e malata il 45% del totale con la certezza che tra tre anni negli spazi dei radati comincerà a crescere una nuova foresta di roverelle, lecci e altre latifoglie. Il progetto di 200.000 euro è stato indirizzato nella sperimentazione di nuove tecniche di esbosco di taglio e di valorizzazione del legname delle pinete abruzzesi pinete abruzzesi che hanno da sempre un solo scopo era quello di difendere il suolo dall'erosione e di preparare l'invasione di specie indigene ossia la rinascita di un nuovo bosco. E ora parliamo di salute perché a Pescara questa mattina è stata inaugurata una nuova struttura medica si chiama Life Care e introduce una nuova concezione di prestazioni mediche quelle improntate alla prevenzione con la mappatura del proprio DNA. Francesca Romanatese Il centro medico Life Care nasce come una struttura che vuole rispondere a una nuova esigenza, quale? Esigenza di una prevenzione moderna concentrata sull'individuo e non sulla patologia e che ha però all'interno anche la possibilità di fare delle diagnostiche avanzate anche queste moderne secondo il criterio del non dolore per cui con anestesista disponibile per tutte le procedure, quelle coloscopiche, cistoscopiche, isteroscopiche quindi fatte da professionisti di assoluta capacità. La concezione è nuova per l'Italia perché è un'anticipazione di quello che può essere la patologia di quella che deve essere la prevenzione e poi soprattutto una riflessione su quelli che erano dogmi che poi vengono smentiti a distanza di 30 anni e anche sugli studi che vengono fatti adesso in particolare c'è la preziosità del DNA. Assolutamente sì, oggi c'è la possibilità di andare a valutare determinati aspetti che sono presenti nella nostra Costituzione e che una volta di cui si prende la coscienza si può avere la possibilità concreta e reale di strategie attraverso perfezionamenti del nostro stile di vita attraverso modifiche della mia alimentazione di andare a condizionare l'espressione dei nostri geni tradotto in pratica a cercare di mantenere più attivi e funzionali i geni che ci possono proteggere e di cercare invece di tenere più silenziati e più sotto controllo che ci possano svantaggiare. La nuova logica è quella di inserire questo centro nel circuito della prevenzione anche genetica quindi guardando all'individuo da un punto di vista del DNA e di proporre terapie che non siano solo mediche ma anche comportamentali, nutrizionali, stili di vita, modificazioni che oggi si è visto che condizionano molto di più il processo del benessere che non la singola terapia farmacologica. E cambiamo ancora pagina, una vendemmia ottima nell'area vestina come in tutto l'Abruzzo qualità e quantità delle uve sempre ad alto livello finiti i bianchi si comincia la vendemmia del Montepulciano d'Abruzzo Antonio Recanati Siamo nel clou della vendemmia, siamo nell'area vestina, terra di vini importanti e siamo qui con Rocco Pasetti Le vendemmie è vero non sono tutte uguali ma quella di quest'anno com'è? Per me questa è la quarantesima, la trentanovesima vendemmia per la precisione decisamente non ce n'è stata una che è stata simile a quella successiva o a quella precedente guai se così fosse la natura è bella perché si diversifica nella sua impostazione ma anche nei suoi risultati anche questa è una vendemmia da ricordare da ricordare perché forse ha avuto siamo passati da un eccesso a un altro l'anno scorso una vendemmia particolarmente sbilanciata e forse troppo umida quest'anno forse il tempo è stato troppo clemente in alcuni casi forse un po' arido gli ultimi giorni di questo clima sariano sicuramente non ha avvantaggiato la pianta che di fronte ad una traspirazione eccessiva soffre ecco la qualità poi alla fine è data da una produzione controllata diciamo che quest'anno la qualità si è controllata da sé perché la siccità fatta sì che la pianta andasse avanti con un certo equilibrio ma soprattutto la qualità delle uve in particolare le uve rosse un po' meno le uve bianche perché l'eccessivo calore ha in un certo senso bruciato la parte aromatica anche se poi usciranno altri aromi in fase di affinamento dei vini per il Montepulciano sarà un'annata molto molto particolare per certi montepulciani molto strutturati a vantaggio della gradazione alcolica che non è tutto un'ottima maturazione fenolica che sono le basi poi per avere un Montepulciano molto longevo è caratteristico di questo territorio bellissimo che è l'area vestina e apriamo la pagina degli eventi dopo l'esperienza capitolina The Making of L'Aquila la mostra sbarca proprio nel capoluogo di regione nella sede comunale di Palazzo Fibioni sarà aperta dal 25 al 30 settembre una mostra d'arte contemporanea ma anche una riflessione sulla comunicazione dell'arte e sul ruolo della creatività come valore sociale doppio il messaggio dell'artista nella mostra The Making of L'Aquila che parla della genesi della sua opera attraverso le immagini e anche con il suo prodotto finito l'originale esposizione approda anche all'Aquila dopo il successo nella capitale sostenuta fra gli altri dal Ministero per i beni culturali al secondo piano di Palazzo Fibioni sede del comune dell'Aquila 13 le opere in mostra di artisti del calibro di Berengo Gardin Mariani, Pomodoro, Licia Galizia l'arte contemporanea è un cantiere è un cantiere in cui ancora non riusciamo a capire quale sarà la forma tant'è vero che la mostra espone una moltitudine di artisti con molteplici linguaggi sì il doppio perché da una parte c'è l'opera esposta ma verrà proiettata sul muro attraverso un proiettore appunto e quello che è l'opera che viene realizzata nello studio dell'artista accanto alle opere si è deciso di proiettare una percezione intima dell'autore l'opera vive dunque accanto al suo doppio virtuale la mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e 30 la mostra è il risultato di questa esperienza televisiva che è stata fatta in una trasmissione che si chiamava Art News che è andata in onda su Rai 3 per 7 anni e accanto ad ogni mostra, accanto ad ogni opera c'è il video che documenta la realizzazione di quell'opera quindi il binomio è ben rappresentato in questa esposizione e giunge alla sua 22esima edizione la rassegna polifonica a Prutina che sabato e domenica ospiterà a Teramo artisti e realtà corali provenienti dalla Finlandia e da diverse regioni d'Italia ad aprire l'appuntamento saranno i padroni di casa la corale Verdi ideatrice dello storico appuntamento 26-27 settembre ci sarà la rassegna polifonica a Prutina un appuntamento importante perché ovviamente l'apertura sarà dei padroni di casa ci saranno degli altri cori che saranno ovviamente ospiti e molto importante perché ovviamente si parla di cultura e tradizioni Presso la sala polifunzionale della provincia con inizio alle ore 21 e con ingresso gratuito la 22esima edizione della rassegna polifonica abruzzese 22esima edizione credo che non sia poco il 26 alle ore 21 dicevamo abbiamo il coro Idum di Helsinki è un coro molto particolare, un coro che canta in diverse lingue e direi anche qualche dialetto non so se qui... no, non faranno pezzi in dialetto ma si sono cimentati anche su dei pezzi del nostro repertorio poi avremo un altro coro ed è il Vocal Project è un coro che nasce all'interno di un istituto musicale ed è rappresentato da giovani e da ragazze dai 16 ai 27 anni poi abbiamo il coro dell'Accademia di Genova anche questo è un coro sperimentale, molto giovane ma con dei tentativi di innovazione perché questa è la tendenza che oggi abbiamo ma quel che è importante è che come ogni anno il sabato mattina si svolge l'incontro con il maestro e quest'anno l'incontro con il maestro avviene con un maestro veramente di classe con la direttore Roberta Paraninfo che è proprio la direttrice del coro direttore del coro di Genova, dell'Accademia di Genova La Corale Verdi è veramente importante per il nostro territorio perché dà un contributo soprattutto in termini di produzione artistica oltre a realizzare, a dare una rilevanza internazionale a quello che è il nostro territorio per quanto riguarda l'aspetto corale ci tengo a precisare che l'aspetto di produzione è veramente notevole e notevole soprattutto in questo momento è difficile da portare avanti quindi noi siamo veramente entusiasti degli sforzi che veramente fanno tutti quelli che lavorano intorno a questa organizzazione per dare a loro ma anche alla nostra città un respiro di carattere internazionale perché credo che sia anche per il nostro territorio un'occasione importante da cogliere anche il fatto di ospitare veramente artisti da tutto il mondo Andiamo ancora avanti con la pagina degli eventi un appuntamento d'eccezione nell'ambito del cartellone i concerti delle Abbazie con la International Piano Masterclass tenuta dal pianista di fama internazionale Aquiles delle Vigne in programma dal 26 settembre al 3 ottobre a Canzano iniziativa promossa dalle associazioni Lamsec & Cultura e Dino Marsili di Canzano Per Canzano è un'occasione fondamentale di entrare in un circuito internazionale musicale grazie alle associazioni Luzmec e Dino Marsili che hanno dato questo contributo al nostro paese L'emozione è unica è unica perché si parla di musica, si parla di arte e si parla di musica classica oggi la musica classica vive con una specie di sortileggio tutti, noi, anzi la maggior parte della popolazione dice ma io non ascolto musica classica perché non la capisco avere la pretesa di capire non è la chiave basta solo ascoltare la musica e fare il resto parliamo di arte, vive perché vive in questo caso saranno dei grandissimi talenti a trovarsi davanti al pubblico perciò facciamo capire anche la caratura di questo evento abbiamo invitato il maestro Achilles delle Vigne che oggi forse è tra le 10 personalità più rappresentative nel mondo della musica classica, nel panorama mondiale della musica classica verrà a Canzano e per 5 giorni farà lezioni a Canzano abbiamo ricevuto iscrizioni da tutto il mondo un ragazzo dalla Cina, una ragazza dalla Russia dal Belgio, da Israele, da tutta Italia Firenze, Bologna, Novara, Ascoli ma anche dalla provincia di Teramo da un comune come Cermignano questo per capire che il talento noi ce l'abbiamo anche in casa verranno a Canzano, faranno lezioni vivranno a Canzano, avranno la possibilità di dormire, mangiare e vivere la quotidianità del paese ci saranno concerti serali e il concerto finale sarà con la speciale partecipazione della giovane orchestra d'Abruzzo in particolare poi verrà anche allestita una mostra una mostra particolare per intanto la sua storia e soprattutto per come verrà proposta nel Museo dei Saperi Familiari è stata allestita una mostra a paesaggio a cura degli artisti Francesco Franchi, Mauro Di Giuseppe, Marino Melalangelo e Francesca Casolani che dà un ulteriore tocco artistico a tutta la chermessa Castelli commemora oggi l'anniversario della scomparsa del sindaco Enzo De Rosa per rendergli omaggio alle 18 nella chiesa di Castelli sarà celebrata una santa messa inoltre nella mattinata di domani alle 11 a San Gabriele l'Unimil in occasione del suo 25esimo raduno nazionale renderà omaggio con una solenne commemorazione ad Enzo De Rosa e al sindaco di Isola del Gran Sasso Alfredo Di Varano scomparsi entrambi un anno fa a distanza di pochi giorni uno dall'altro ad un anno dalla scomparsa è ancora forte il ricordo in tutta la comunità di Castelli di Enzo De Rosa, primo cittadino del piccolo comune Teramano per due mandati il professore oltre a svolgere con passione il suo ruolo istituzionale di sindaco è stato anche un alto rappresentante dell'arte della ceramica che ha reso famosa Castelli nel mondo apprezzato soprattutto per i suoi paesaggi nei dieci anni alla guida della comunità castellana De Rosa ha fatto sì che il borgo fosse inserito nell'esclusivo club dei borghi più belli d'Italia oltre ad aver portato delle innovazioni nell'arte ceramica come l'ideazione dei decantere e dei bicchieri da vino in ceramica e la scoperta storica e più recente delle ceramiche per cioccolato e caffè quest'ultima in particolare ha portato all'inserimento di Castelli nel percorso culturale europeo The Chocolate Way poiché al borgo è stato riconosciuto il ruolo di unico produttore di chicchere e portachicchere per la degustazione di cioccolato e caffè che nei circoli aristocratici italiani cominciava a verificarsi già nel 1680 E' una condanna ad un anno e sei mesi quella che il giudice Roberto Veneziano inflitto questa mattina all'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio Ercole Di Nicola finito a processo davanti al Tribunale di Teramo per fatti risalenti a quando faceva parte della dirigenza del Morrodoro Calcio Di Nicola all'epoca secondo l'accusa amministratore di fatto del Morrodoro era accusato di omessa dichiarazione ed occultamento o distruzione dei documenti contabili in relazione agli anni 2009, 2010 e 2013 reati che erano contestati anche all'allora amministratore di diritto dell'associazione sportiva direttantistica Mario Scarpone che è stato invece assolto da tutte le accuse per non aver commesso il fatto Siamo alla pagina sportiva al calcio il Pescara che da ieri a Vicenza per preparare la gara di domani al Menti qualche dubbio di formazione per il tecnico Massimo Oddo con Mandragora e Cocco che non sono al meglio della condizione 22 i calciatori partiti ieri per il capoluogo Veneto andiamo ad ascoltare il tecnico del Pescara proprio alla vigilia di questa gara C'è qualcuno che è in grande condizione in questo momento e altri che magari non sono al massimo della forma ma siamo bene o male quasi tutti vicini alla forma ideale poi è normale che tu puoi allenarti quanto vuoi puoi stare bene quanto vuoi ma alla fine il vero allenamento è la partita quindi il giocare spesso fa sì che tu possa entrare bene in forma perché la parola forma per me vuol dire anche comprende all'interno di essa anche conoscenza dei propri compagni conoscenza dei meccanismi di squadra perché uno può stare in forma quanto vuoi ma se non sa cosa fare in campo poi fa fatica pure lui magari corri a vuoto c'è la corsa ma corri a vuoto quindi credo che i giusti meccanismi si possano trovare giocando giocando più partite quindi la massima forma di qualsiasi giocatore verrà giocando sempre di più Cocco sto cercando di metterlo in condizione di correre il meno possibile sta facendo la punta centrale praticamente con due o tre quartisti alle spalle e giocando così è l'unico punto di riferimento che per forza di cose gioca a spalla alla porta e di conseguenza le occasioni sono più per gli altri che arrivano da dietro che per lui e quindi è una logica conseguenza nel momento in cui raggiungerà una forma migliore sarà anche in grado di fare movimenti che gli appartengono che però ovviamente ha bisogno di correre di più di affaticarsi di più e in questo momento preferisco averlo più fresco per gli altri squadra consapevole dei propri mezzi che va a cercare di giocare su ogni campo con la propria mentalità fino a questo momento credo che l'abbiamo fatto tranne la prima partita e dobbiamo continuare a farlo perché è nelle nostre cose poi ci sono anche gli avversari che a volte non ti consentono questo perché magari a volte possono essere anche più bravi di te però quella deve essere la nostra mentalità Vicenza Pescara che sarà diretta domani alle 15 dal signor Pezzuto di Lecce passiamo alla Lega Pro Vernissage questa mattina in comune per il Teramo che è stato presentato dinanzi all'amministrazione comunale presentate anche le nuove divise da gioco ma in Casa Biancorossa ci si concentra soprattutto alla gara di domani l'esordio di campionato dopo tanti rinvii quando alle 14 al Bonolis sarà ospite il Savona e il tecnico Vincenzo Vivarini pensa ovviamente solo ed esclusivamente al calcio giocato in attacco si riparte dai piccolini da Silva e Petrella visto che gli attaccanti nuovi sono arrivati da molto poco e devono integrarsi sì questa è una soluzione che diciamo hanno fatto molto bene a Perugia le partite in precampionato però è chiaro che ci sono gli attaccanti che abbiamo presi che sono di grande qualità, di grande spessore e quindi sono da integrare quindi prima li facciamo integrare meglio a Enzo in difesa ci saranno anche delle novità forzate? beh lì sì perché abbiamo squalificati per Rotta e Caidi quindi le alternative sono Altobello, Brogaletta, Vetturini che bene o male si giocano due posti su tre e il Savona per quel poco che si può prendere di informazioni visto che hanno giocato due partite di Coppa che squadra è? la squadra l'hanno attrezzata molto bene perché comunque hanno preso dei giocatori importanti dalla davanti, Virdis dell'Agnello ma soprattutto Cagliardi come trequartista che l'hanno preso da una squadra di Serie D però è un giocatore molto molto dinamico bravo tecnicamente dobbiamo tenere in grande considerazione questo giocatore poi c'è la mezzala Steffè che l'avevamo cercato anche noi perché viene dalla primavera dell'Inter ma è un giocatore molto molto bravo molto dinamico e tecnicamente molto bravo e dietro poi c'hanno Rossini insomma che è tutto dire c'ha la Serie A alle spalle quindi è una squadra attrezzata bene senza calcolare i terzini che sono molto molto bravi però anche noi siamo bravi Mister, quale sarà l'obiettivo? c'è questo fardello della penalizzazione che si spera di poter smussare però si parte con quale obiettivo? sì fare bene, vincere però l'obiettivo finale vi siete un po' parlati fare i playoff cercare l'impresa di vincere addirittura no 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 io diciamo che con la società abbiamo parlato di avere una squadra competitiva per questo campionato questa è la cosa che a me interessa ma interessa anche i giocatori cioè andare in campo e potersela giocare con tutte le squadre poi ci vuole la bravura nostra a paura dei giocatori per cercare di riuscire ad ottenere questo in questo momento qua le attenzioni sono rivolte non alla classifica ma sono rivolte a trovare quell'intesa quella qualità di gioco quegli atteggiamenti giusti che una squadra deve avere in campo per poter diciamo andare a guardare la classifica poi il periodo più importante come dico sempre domani in campo anche l'Aquila che giocherà però in notturna al Conero di Ancona area quasi di derby per il Rosso Blu andiamo ad ascoltare il tecnico dell'Aquila Mister Perrone voglia di riscatto in casa dell'Aquila Calcio dopo la sconfitta interna contro il Ponte D'Era domani sera alle 20.30 l'Aquila di Mister Perrone affronta in trasferta l'Ancona da parte nostra sicuramente ma anche credo da parte dell'Ancona perché ha perso una partita immeritatamente contro il Pisa quindi credo che ci saranno due squadre si affronteranno due squadre ferite che vorranno sfruttare questa occasione per far punti tutti a disposizione i calciatori recuperato completamente anche il centrocampista Benzaia voglio che tutti tutti i giocatori alla fine della partita siano stravolti e quindi se devo fare un cambio è perché un giocatore non ce la fa più e non ha più energie per continuare la partita quindi solamente con questo atteggiamento la squadra secondo me potrà trarre beneficio anche dalle qualità tecniche importanti che parecchi singoli hanno se noi pensiamo di andare domani a fare una partita in punta di Fioretto e sicuramente troveremo una squadra che invece sarà aggressiva sarà cattiva sarà fisica noi avremo grossi problemi ma domani come in tutte le altre partite noi dobbiamo pensare che siamo un'ottima squadra che secondo me può veramente raggiungere tra quanti importanti se però ci comportiamo da squadra provinciale la squadra provinciale cosa fa? siccome è più debole delle altre dal punto di vista agonistico cerca di raddoppiare le energie e noi questo dobbiamo fare dobbiamo avere la mentalità della provinciale con le qualità però buone che abbiamo questo era l'ultimo servizio della nostra prima edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna questa sera come sempre alle 19 grazie e buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti